Ben ritrovati in studio per la terza ed ultima parte di AC News, il notiziario di Arezzo Channel dedicato all'Arezzo Calcio. Ieri sera si è giocato il recupero per la Virtus Entella della seconda giornata di campionato. La Virtus Entella ha vinto infatti tra le mura amiche contro l'Arzachena. Terza vittoria per il club chiavarese che al 52esimo è andato in gol con Pellitzer conquistando altri tre punti in classifica e quindi tre partite su tre e tre vittorie. Riguardiamo insieme anche quelli che erano stati i risultati di questo turno infrasettimanale di recupero. Quindi dopo Virtus Entella-Arzachena 1-0 finisce invece 0-1 Novara-Albissola, Siena-Pisa 1-0 e poi Arezzo-Provercelli come ben sappiamo 3-1. Un rapido sguardo anche a quella che è la classifica provvisoria del Girone A alla vigilia dell'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie C. L'Arezzo agganciato in testa il Piacenza si porta a 19 punti seguita a stretto giro dall'insidiosa Carrarese con 17 misure. Bottino di 14 punti per il Pisa seguito poi dall'Alessandria a quota 12. 11 lunghezze per Provercelli, Olbia e Juventus Sander 23. 10 punti per Cuneo, Ponte d'Era e Propatria. 9 misure per il proprio Piacenza e da ieri sera anche ovviamente per la Virtus Entella, mentre a 8 si attestano Novara, Siena, Arzachena e Gozzano. La Pistoiese detiene attualmente 6 punti, mentre restano a quota 5 l'Albissola e la Lucchese, che si è vista una penalizzazione di 11 misure in classifica. L'Arezzo sarà di nuovo sul piccolo schermo. È ufficiale che dopo la sfida in casa del Novara, gli Amaranto affronteranno la Carrarese al comunale Città di Arezzo in posticipo. La partita infatti non sarà disputata come da calendario originale, domenica 18 novembre, ma lunedì 19 alle 20.45. Ovviamente in questo orario è prevista anche la diretta su Rai Sport. Passiamo adesso ad aprire la nostra finestra alla vigilia del fine settimana di gare sul settore giovanile. Partiamo subito dall'Under 19, la Berretti di Mister Longo, che è in partenza proprio tra poche ore per giocare il match contro l'Albissola. La partita andrà in scena domani alle ore 14.30 e vedrà l'Arezzo cercare di mettere insieme una nuova vittoria. Soltanto infatti una caduta per i ragazzi di Mister Longo dall'inizio di questo importante campionato. Si giocherà invece domenica alle ore 14.30 in territorio amico, quindi a Luciano Giunti dell'Olmo Ponte, la partita a Rezzo Olbia degli Under 17 di Mister Dante e Gioacchini. Provengono da una sconfitta e sicuramente si aspettano il pronto riscatto. Stesso avversario, cioè i sardi dell'Olbia, anche per l'Under 15 di Massimiliano Bernardini, reduci invece da un pareggio, partita domenica mattina alle ore 11.30, anche questa presso il campo Luciano Giunti della società Olmo Ponte. Si va invece verso il recupero della prima giornata di campionato per la sperimentale Under 16 del tecnico Andrea Sussi, partita che è stata sospesa per cause meteorologiche avverse. Quindi domenica alle ore 11.30, al supplementare Banelli di Pesaro, l'Arezzo andrà a rendere visita alla Vis Pesaro. Under 14, partita in programma sempre domenica alle ore 17, trasferta al nuovo Marconcini, l'Arezzo infatti andrà a sfidare il Ponte d'Era. Per gli Under 13 invece di Mister Giacomo Gorgoni, appuntamento sempre domenica alle ore 11, il campo è quello casalingo di Quarata, la partita che andrà in scena sarà Arezzo-Ponte d'Era. Turno di stop, di riposo invece per i piccoli di Mister Vincenzo Bove, per l'Under 12 a Maranto, che proviene comunque da tre vittorie consecutive e da un pareggio. Riprenderanno il campionato quindi la prossima settimana. Brutte notizie invece sul fronte dell'Arezzo calcio femminile, nel caos delle sostituzioni dovuti ai nuovi regolamenti per l'ingresso dei campionati delle massime serie di calcio femminile in FGC, la Corte d'Appello della Federcalcio ha annullato tutte le vittorie a tavolino. L'Arezzo risulta pertanto sconfitta anche nella prima partita contro il Milan Ladies, il giudice sportivo ha ormai omologato il risultato. Termina qui questa puntata di AC News, l'ultima di questa settimana. Io vi ricordo intanto l'appuntamento di questa sera con Amaranto Ward, il programma condotto dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci, che andrà in replica anche domattina alle ore 7. Noi vi diamo intanto appuntamento a lunedì. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.